Segnali negativi arrivano dal comune di Butera per quanto riguarda il passaggio al libero consorzio di Catania, così come invece già effettuato dal comune di Gea, dal comune di Piazza Armerina e dal comune di Niscemi. Sì, abbiamo potuto constatare questo fattore negativo sin dall'inizio, in quanto per deliberare intanto occorrevano due terze degli aventi diritti, quindi su 15 consiglieri erano presenti soltanto 9 e quindi per un'eventuale delibera di adesione occorrevano minimo 10 presenze, 10 voti. Quindi vista già la presenza di un numero esiguo dei consiglieri comunali di Butera, poi invece come si è evoluta la seduta? Ho visto che i consiglieri sono stati influenzati negativamente, forse anche consapevolmente, e per passare un comune dalla ex provincia ad un nuovo consorzio addirittura era necessario l'ok da parte del comune capofilo. E questa è una grossa fesseria. E quindi questo segnale è evidentemente negativo, quindi Butera non delibera, non ha neanche rinviato ad una seduta successiva? No, ha rinviato ad una seduta successiva, solo che per una delibera e quindi anche per un referendum confermativo vi sono soltanto 30 giorni, perché l'ultima domenica per poter fare il referendum è il 21 di settembre. E a quando è stata rinviata questa prossima seduta del Consiglio Comunale di Butera? A sentire il Presidente del Consiglio Comunale di Butera, quanto prima si dovranno riunire per prendere queste decisioni. Questa brutta notizia che è arrivata, anche se provvisoria, da Butera, cambierà qualcosa nel quadro geografico del libero consorzio di Catania, così come si stava delineando? No, non cambia nulla, perché Gela, così come gli altri comuni, Niscemi e Piazza di Mino, hanno fatto la loro scelta e quindi ognuno è libero di imbiccarsi con l'accordo che vuole, però abbiamo potuto constatare tutti i membri del Comitato che ieri sera eravamo presenti a Butera, che stanno prevalendo, a mio modo di vedere, e concordi anche gli altri, gli interessi personali a discapito degli interessi generali della città di Butera. Lei che idea si è fatto? Perché non è il primo viaggio, la vostra missione del Comitato per lo sviluppo dell'area gelese a Butera, quindi vi eravate già fatti più o meno un'idea, è stata una sorpresa o no? Ogni strumento è quando circa 6-7 mesi fa siamo stati a parlare con l'amministrazione e nella figura del sindaco, questo ci ha detto a tutti i componenti, ma che siete venuti a fare, Butera si può considerare un quartiere di Gela, però poi nel tempo che ci sono stati altri contatti abbiamo visto che stanno prendendo tempo, così forse per fare scadere i termini. Grazie. Grazie.